ciao a tutti noi siamo operativi come vedete quindi vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 siamo aperti siamo qui quindi vi aspettiamo per farvi provare questo bellissimo sport coach è la community coach diciamo che è la parte più importante del box di crossfit perché lui in realtà non è solo quello che fa partire il timer e ispirare gli esercizi il coach ha l'attivo di ispirare e quindi di aiutare le persone a vivere la vita in maniera migliore quello che piace di più del crossfit è la community cioè tra le classi tra le azioni ogni giorno le persone diventano amiche si creano dei tutti e quindi da tutto ciò ne nasce anche il benessere psichico questo è veramente la cosa più importante del nostro sport grazie a tutti grazie a tutti